che in questo caso non riguarda il decreto sostegni ma le donne, perché le donne del Partito Democratico, visto che Enrico Letta ha detto due capigruppo donna, ci vogliono due capigruppo donna, è stato però anche un avviso di sfratto a Del Rio e a Marcucci. Lei come la vede? Un bilanciamento fra questione di genere e esigenza politica e tono della segreteria Letta, piglio della segreteria Letta, ma comunque funzionale per le donne o no? Sì, credo di sì, credo che sia una mossa coraggiosa, perché è anche vero che la situazione nel Partito Democratico si era fatta veramente imbarazzante e questo non poteva andare oltre. Letta vuole cambiare e quindi ha cambiato scegliendo la segreteria, ha cambiato il linguaggio, è giusto che cambi anche, secondo me, i presidenti delle commissioni parlamentari e che, visto proprio un passato di concessioni così un po' molto dettate da esigenze anche comunicative e anche da quelle delle diverse corretti, credo che abbia fatto bene. Ma c'è una cosa che voglio dire, io vorrei vedere uomini, uomini politici, anche il nostro ministro degli esteri dire qualcosa a proposito della sospensione della Convenzione di Istanbul sul odio e la violenza nei confronti delle donne. Io non ho sentito politici italiani stigmatizzare questo e questo io lo ritengo una grave pecca. Bene, questo naturalmente è da registrare. Vado dal professor Cotto.